Io credo che la gara di domani possa essere la gara ideale pur affrontando una squadra fortissima che ci possa permettere paradossalmente di uscire da questa grossa buca in cui ci siamo infilati e sta a noi, sta a noi fare una grande prestazione, fare una prestazione di grande attenzione, di grande sacrificio, di grande unità da parte di tutti i ragazzi e andando oltre certe difficoltà, oltre certi ostacoli sapendo che ci sono tre punti in palio e ce la vogliamo andare a giocare nel miglior modo possibile. La testa pare essere al momento il più grande cruccio di Massimo Rastelli. L'occasione d'oro di cui parla il tecnico si paleserà questo pomeriggio quando alle 17.30 l'Avellino sfiderà il Catanzaro al Ceravolo. Un incrocio quasi testa coda per una partita che indubbiamente avrà un sapore particolare, sicuramente sul fronte bianco-verde. I Lupi hanno poco da perdere se non un'altra partita, la quarta di seguito, che a questo punto sancirebbe una crisi a tratti insanabile sia per la classifica che per il morale. I problemi non mancano, soprattutto perché in questa settimana abbiamo percepito chiaramente che le condizioni di Casarini e Trotta non sono buone. Potrebbero entrambi dare forfei ed allora Rastelli potrebbe meditare ad esempio un ritorno alla difesa a tre, Moretti a destra, Benedetti al centro e Auriletto a sinistra. A centrocampo Ricciardi e Tito sugli esterni, D'Angelo e Mazzocco interni a supporto di Matera nel ruolo di play. In avanti Russo si affiancherà a Marconi. Rizzo ha un fastidio al ginocchio e non è stato convocato, così come Tunkara ha out per scelta tecnica. Il conto alla rovescia sta per finire, vedremo se i lupi sono ancora capaci di azzannare o se hanno disperso nel bosco quella che dovrebbe essere una capacità innata.